Buongiorno, è un grande piacere e ringrazio Virginia per avermi invitato anche in questa edizione, grazie Roberto e tutti gli interlocutori qui presenti. Allora io partirei appunto come dicevi da un commento di quello che voi avete evidenziato e partiamo dal primo punto, il primo punto quindi era legato all'investimento sulla tecnologia, l'investimento nel punto vendita, scusate, l'investimento nel punto vendita. Allora quello che voi avete qualificato è che, un fatto estremamente interessante è che avete una forte propensione all'investimento e questo a mio modo di vedere è un dato rilevante perché qualifica un modo di pensare, un mindset manageriale che è orientato al cambiamento e credo che questo tema, ecco qua grazie finite così lo vedo qua, e credo che questo tema emergerà fra poco nel mio intervento sia un aspetto cruciale, quindi io di questa chart e di questa prima domanda mi porto a casa la disponibilità vostra in misura significativa di investire. Ecco diciamo che un elemento che pongo alla vostra attenzione e alla nostra attenzione è l'elemento sugli spazi. Ecco in realtà se io qualche riflessione in più sul tema spazi me lo porrei e fra poco ci ritorno. Perché mi porrei qualche riflessione in più sul tema spazi, perché a mio modo di vedere una delle riflessioni che voi dovrete fare riguarda proprio il modo attraverso il quale voi vi approccerete al mercato e quindi secondo me questo punto lo fisso e dopo Roberto lo riprendiamo. Secondo issue, che cosa prevedete per l'edilizia nel 2023? Allora qui come si diceva, come diceva Roberto è più controversa, no? Io credo che qui ci sono due elementi che si vanno, devono essere considerati, elementi di contesto e elementi specifici della vostra industry. Dal punto di vista degli elementi di contesto al netto dell'Ucraina, della guerra in Ucraina e al netto di quello che può succedere su Taiwan, che sono due variabili peraltro gigantesche, la situazione a mio modo di vedere è meno peggio di quella che viene dipinta. È meno peggio di quello che viene dipinta perché tutto sommato a livello italiano abbiamo adesso l'indebitamento, il livello di debito su PIL si chiude al 145% a fine anno e una parte non piccola di questo debito è in mano alla Banca d'Italia per conto della BCE, quindi siamo su attorno al 100% di debito in mano a privati, io non credo che la situazione sia drammatica, peraltro l'inflazione, adesso non entriamo nel tecnico, però l'inflazione una mano la dà a chi è indebitato. Quindi io non credo che il paese sia messo, se sarà governato in modo ragionevole, sia messo proprio male. Certo, se non ci fosse stata la guerra in Ucraina probabilmente avremmo vissuto un periodo paragonabile al boom industriale degli anni 70. Purtroppo è successa questa guerra e questa situazione grazie al PNRR intendo dire. Quindi diciamo che il quadro di contesto è sicuramente, non è incoraggiante ma non dobbiamo farci deprimere. Ripeto, netto Putin quello che succede a livello internazionale. Lato mercato dell'edilizia c'è il tema del super bonus che a mio modo di vedere è un, come abbiamo già detto ad aprile, è un acceleratore darwiniano. Cioè il super bonus ha accelerato processi di crescita ma li ha drogati e quindi in questo senso a breve avremo soggetti che di questa droga periranno. E quindi è un acceleratore darwiniano nel senso che coloro che hanno semplicemente cavalcato il super bonus senza cambiare molto probabilmente si troveranno in difficoltà. E quindi darwinianamente io mi aspetto che la vostra industry evolva e fra poco qualificherò come evolvi, verrà, secondo me. Quindi direi che sul tema energia, come dire, sempre Putin permettendo il tema dell'energia è sufficiente che si mettano d'accordo. Cioè le cose da fare sono talmente semplici da un punto di vista pratico che, come dire, è bastato che annunciassero non un accordo ma che annunciassero che vogliono trovare un accordo che siamo passati da 300 dollari al megawattora adesso a, mi dicevano ieri a 90 dollari al megawattora. Quindi, come dire, la situazione può essere ampiamente sotto controllo, basta volerlo. Certamente il tema dell'energia, però adesso ci arriviamo, è un tema discretamente interessante per noi e fra poco lo esamineremo. Terzo tema, come affrontate l'unumento dei prezzi? Diciamo che di questa, quello che mi fa più piacere è l'1% di proposta di prodotti meno costosi. Nel senso che questa, secondo me, era la risposta civetta che ci faceva capire come eventualmente l'avreste pensata. Pensare di reagire all'inflazione andando a lavorare su una strategia di leadership di costo sarebbe suicida. Nel senso che, lo abbiamo già detto, una struttura di filiera come quella, come la nostra, che è una struttura di filiera che si articola per una capillarità di presenza sul territorio e per un sempre maggiore orientamento al servizio, ma proprio perché capillare sul territorio si porta dietro dei costi, evidentemente commettere l'errore che ha commesso il commercio normale sarebbe un suicidio. Il commercio tradizionale ha reagito all'e-commerce abbassando il livello dei servizi e abbassando i costi. Significa andare nell'arena dove gli altri vincono per definizione. Quindi a me fa molto piacere, Roberto, questo tipo di risposta, cioè che vi è la piena consapevolezza che una logica di posizionamento sana, salutare per il nostro sistema, della distribuzione, è quella che abbandona il costo, che non vuol dire che il costo non è rilevante, ma non è l'obiettivo, è una variabile che deve essere gestita e il nostro elemento distintivo deve essere qualcosa d'altro. Fra pochissimo richiameremo cosa vuol dire questo qualcosa d'altro. Quindi a me su questo puntiamo, anche lì, puntiamo su un magazzino più fornito, mi fa piacere se sono pochi, perché dico mi fa piacere? Perché signori, se non abbiamo un magazzino fornito, quello è il fattore igienico, cioè ormai avere capacità logistica è condizione necessaria, ma non sufficiente per stare in piedi. Quindi mi fa piacere che, come dire, dimostra che siamo sostanzialmente a posto a questo riguardo. Vabbè, il tema dell'adeguamento ai listini lo vediamo. Ok. Ultima. La sostenibilità è entrata in rivendita. Ecco, come dire, io voglio stigmatizzarvi un quarto delle persone che dice che non è un concetto ancora popolare. Allora, perché non frequentate i giovani? Cari signori, chi ha potere d'acquisto fra un giorno o fra cinque giorni, considera totalmente la variabile ambientale. I nostri giovani, vale a dire, pensate ai vostri figli, ma io penso ai miei ingegneri, architetti, designer, fanno della variabile ambientale una bandiera. Quindi è un concetto molto popolare, diciamo che diventerà condizione necessaria fra pochissimi anni, perché quei giovani che entrano nel mondo del lavoro questa variabile ce l'hanno dentro, nel loro sistema operativo. Adesso, ho torto collo, il tema ambientale sta diventando rilevante per tutti e il super bonus da questo punto di vista, i temi dell'efficienza energetica, sono dei driver che spingono in questa direzione. Però ripeto, di variabile ambientale diventerà priorità assoluta, ma lo è già ora. Però diciamo, i giovani, anzi, attenzione, siccome noi avremo bisogno di assumere talenti, attenzione che i talenti vanno solo in aziende che hanno questo tipo di consapevolezza ambientale. Vedo, osservo quotidianamente i comportamenti dei nostri ragazzi. Tanto per dirvene una, la settimana, quando che era? Iro la settimana scorsa a Bergamo a un evento dei distributori di bevande. Quindi il consorzio CDA che a Bergamo ha celebrato il suo evento annuale e osservavamo in università non ci sono più bottiglie di plastica. I nostri giovani vengono tutti con la bottiglietta e il refill e abbiamo dovuto mettere, sì ci sono ancora le macchinette, ma accanto alle macchinette abbiamo messo il refill, perché voi vedete i nostri ragazzi hanno tutti zainetto e bottiglietta. Lo fanno per un tema ambientale, per non consumare plastica. Chiaro? Quindi questo è il mondo in cui saremo a brevissimo, che si porta dietro se non ci strutturiamo per tempo, evidentemente. Ok, io direi che questi sono i commenti preliminari, a questo punto io direi che è invece fondamentale per entrare nel merito della nostra riflessione. Ok, il tempo lì sotto, perfetto, ogni edizione migliora sempre più l'organizzazione, adesso siamo veramente, diciamo, a state of the art, tempi tutto sotto controllo. Allora, io cercherei di partire, facendo tesoro di quanto avete appena detto, cercando di capire quali sono i cambiamenti nel contesto più rilevanti e quali sono le implicazioni che questi cambiamenti di contesto determinano nel nostro sistema. Allora, noi abbiamo già detto, poi ne parlerà il professor Bubbio della variabile inflazione, quindi io su questo non... è un tema, lascio a te Alberto. Diciamo che però quello che mi interessa osservare, e faccio solo questa considerazione, per quanto riguarda il tema inflattivo è che l'inflazione, come altre variabili, a mio modo di vedere la dobbiamo interpretare come un acceleratore di riflessione orientata al cambiamento. E in questo senso recuperiamo in parte quello che avete detto. Cioè, la dinamica, un contesto inflattivo è un contesto che tenderà sempre più a polarizzare i mercati. Polarizzare i mercati tra coloro che sono price seeker e quelli che sono service seeker, quindi quelli che cercano servizio. Ecco, il mio modo di vedere è in questa chiave che l'inflazione diventa un elemento di accelerazione e deve spingere noi a privilegiare la dimensione del servizio. Faccio solo questa considerazione perché poi il professor Bubbio vi farà una dotta analisi di tutte le variabili economiche, gli aspetti economici che ne conseguono. Quindi strategicamente, secondo me, prendiamo il segnale dell'inflazione come un segnale che ci deve spingere in una certa direzione, che è la direzione del cambiamento. E ricordatevi che il cambiamento va fatto nei momenti, si diceva adesso, tutto sommato c'è ottimismo, nei momenti positivi. Non va fatto nei momenti negativi, perché nei momenti negativi è tardi. quindi davvero, io mi permetto di portare la vostra attenzione, nonostante siano anni positivi, sappiate che arriveranno presto momenti non così positivi. E quindi coloro che darvinianamente avranno evoluto, saranno coloro che rimarranno sul mercato. E guardate che casi nella storia sono tantissimi, di aziende di straordinario successo che in un amen sono saltati. Pensate, casi notissimi, Kodak, Blockbuster, Nokia, 50% di market share a livello mondiale, 5 anni fallite. Quindi mi raccomando, io credo che sfruttate questi momenti, poi ciascuno di voi sceglierà la sua direzione, ma sfruttate questi momenti per raccogliere degli stimoli, elaborarli e comunque retrazionare in una logica di cambiamento nella vostra dimensione aziendale. Secondo elemento, il secondo elemento è legato al combinato disposto della guerra in Ucraina e il tema del super bonus. Il combinato disposto, guerra in Ucraina, super bonus, è a mio modo di vedere un qualcosa che qualifica una determinante di mercato sempre più chiara ed esplicita, cioè l'assoluta priorità del tema dell'efficientamento energetico. Noi non possiamo più prescindere da un'attenzione che gli individui hanno, individui o imprese, quindi qualsiasi soggetto a potere d'acquisto, quindi famiglie, individui, aziende edili, progettisti. Il tema, come dire, se 3-4 anni fa era una variabile, adesso diventa un aspetto mandatorio, cioè è nella sensibilità di qualsiasi interlocutore. Efficientamento energetico è secondo me un bisogno che io porto alla vostra attenzione perché si porta dietro qualche implicazione. Allora, efficientamento energetico è un bisogno articolato, non è un bisogno elementare. Efficientamento energetico è il combinato di pareti coibentate, è il combinato di un efficiente sistema di gestione del riscaldamento e del raffrescamento, è il risultato di un sistema di finestre e quant'altro altrettanto efficace. Quindi efficientamento energetico è un bisogno che chiama integrazione. Riflettete, signori, su questo aspetto. Stanno emergendo bisogni che sono per loro natura meno specializzati e vanno verso una logica di maggiore integrazione. quindi il tema che emerge Roberto è che cosa noi dobbiamo fare per rispondere a bisogni che diventano più articolati. Questo secondo me è il vero tema. Vi do un altro esempio di bisogno che diventa sempre più articolato e che non è un bisogno elementare. È il tema della, come dire, degli edifici, della digitalizzazione, chiamiamola così, della digitalizzazione. La digitalizzazione è, si fa, evidenzia plasticamente l'opportunità di introdurre sistemi di gestione che siano, vengono chiamati smart. Lasciatemela dire così, invece. Io, invece, introdurre la logica del vivere bene o del lavorare bene. Cioè la digitalizzazione è un driver che porta gli individui ad esprimere bisogni più articolati che sono i bisogni del lavorare bene o del vivere bene. attenzione, nel lavorare bene non c'è solo l'ufficio, c'è la casa. Quindi la digitalizzazione è in sé una determinante che porta ad evidenziare bisogni non elementari ma bisogni complessi. E in secondo luogo la digitalizzazione è un fattore di trasformazione dell'organizzazione del valore degli spazi. Perché da questo punto di vista, io non so voi, ma da noi, dico da noi, ma ovunque, tanta della gente lavora da casa. Lavora da casa due giorni su cinque. Ma se lavori da casa due giorni su cinque, i miei collaboratori hanno case che non permettono questo. Cioè io, un collaboratore mio, che attenzione, a casa sui navigli l'ha pagata più di un milione di euro, quindi non è che è un appartamento, ma la casa è strutturata con cucina, soggiorno, due camere da letto, tre camere da letto per i due figli. Non ha uno studio per dire. Quindi da questo punto di vista la digitalizzazione diventa un driver da un lato che impatta sui bisogni. Attenzione, bisogni non solo delle famiglie, ma i bisogni degli amministratori di condominio. Quando io parlo di bisogno è il bisogno della famiglia che si riverbera sull'amministratore di condominio e che si riverbera a noi e vediamo a chi di noi. Perché la partita è verso chi andranno orientati questi bisogni. Questa è vera partita. Capite che se stanno emergendo bisogni complessi, non vi sfugge che la vera partita è noi saremo in grado di intercettare questi bisogni complessi, sì o no. Questa secondo me è l'essenza della sfida. Non ho più bisogno di comprare, adesso esagero un pochino, ma non ho più bisogno di comprare i forati. Al di là di quello che è il fattore igienico, senza forati non faccio nulla, io esprimo questo tipo di esigenze. Non solo, sono gli aspetti a cui sono sensibili. Perché la banca chiede al costruttore, io ti finanzio, ma com'è fatta la casa? Perché se la casa non è fatta in un certo modo, il finanziamento non te lo do, perché se mi torno in groppa deve essere rivendibile. Se no in groppa te lo attieni tu. Quindi capite che questa roba qui è molto più impattante di quello che pensiamo. Cioè al di là di avere ormai famiglie che chiedono questo, al di là di avere costruttori che chiedono questo, c'è tutto il sistema dei provider di servizi, banche e assicurazioni. Come gestisci il cyber risk di gestione? Sono usciti i dati ieri credo, mi pare di averli visti. No, li ho visti però sul giornale locale. Io risiedo a Brescia, il giornale di Brescia riportava che finalmente le imprese e le famiglie bresciane hanno investito più 30% nelle assicurazioni da cyber risk. Però se io devo finanziarti mi ti dico che copertura hai contro il rischio cyber per la gestione dell'impianto idraulico e elettrico, per i servizi tecnici dell'edificio. Attenzione in aggiunta col fatto che stanno nascendo le comunità energetiche, partono le comunità energetiche. Quindi il rischio cyber è un rischio conclamato. La Lombardia ha messo mi pare almeno un miliardo sulle comunità energetiche. Però comunque chiunque oggi comincerà a progettare avendo per quanto riguarda i servizi tecnici non ha più come riferimento la singola unità abitativa, comincia ad avere riferimento la via o il quartiere. Cambiano i sistemi di riferimento. Questo vuol dire gestire la energia. Posso spendere un secondo su questo? No, guardo Virginia. Posso spendere sul tema energia un secondo? Vi racconto una cosa che la settimana scorsa, tanto per dirvi la trasformazione che è in corso. Vi racconto una cosa che la settimana scorsa, interagendo in un buon evento con un soggetto, è emersa e abbiamo discusso. L'entrata del mondo digitale nel sistema di produzione e distribuzione dell'energia è tale per cui, già oggi con le comunità energetiche, ma fra due anni sarà pervasivo, viene a cadere la distinzione tra produzione e distribuzione di energia. Cioè chi consuma energia può diventare lui stesso produttore di energia. In che senso? Prendiamo la lavatrice, la lavatrice connessa, in una logica comunità energetica. La lavatrice connessa è arrivata, deve fare un'operazione che assorba energia ma che può essere rimandata. La casa in parte chiama energia su una cosa che non può essere rimandata, la lavatrice si interrompe momentaneamente perché quell'operazione può essere rimandata e trasferisce energia alla casa in parte. Questi meccanismi, riproducettili su scala di quartiere, diventa una grid smart in cui la casa, non la casa, gli oggetti della casa, rinunciando al consumo diventano virtualmente produttori di energia. Capite cosa stiamo parlando? È già tutto possibile. E accadrà poi. Quanto velocemente accadrà? Molto velocemente, perché la guerra ha accelerato questo. Quindi vedete che andiamo verso un sistema dell'edilizia che è un sistema che in relazione ai bisogni emergenti deve interrogarsi su come riorganizzarsi. Dico questo. La mia personale, personale, quindi prendetela per quello che vale. La mia personale valutazione è che l'assetto attuale a dieci anni non è sostenibile. Perché non è sostenibile? Perché è troppo parcellizzato e frammentato. Allora il tema è come può essere riorganizzata complessivamente l'industry. Io credo che un ruolo molto importante potenzialmente ce l'abbiano esattamente i distributori. Perché hanno un ruolo molto importante? Perché il produttore, punto di partenza, ci sono due casi. Se il distributore continuerà a fare il distributore, lo abbiamo già detto nei precedenti incontri, se io continuo a vedermi solo come fornitore di un servizio di spostamento nel tempo e nello spazio di beni, cioè logistico distributivo, è chiaro che quel distributore lì morirà. Morirà e potrebbe morire perché viene scavalcato dal produttore. Ma io credo che tutte le persone che sono qui presenti non hanno questo tipo di obiettivo. Il produttore in primo luogo è produttore, veicola un prodotto e se c'è bisogno di integrazione occorrono soggetti che esprimano questa integrazione. Il produttore definisce o fa fatica. quindi il tema della distribuzione del futuro è un tema di una distribuzione che si vede che da un punto di vista strategico sviluppa l'essenza del suo business nella capacità di integrare prodotti diversi in soluzioni coerenti con i bisogni complessi emergenti. E' come se voi, tra virgolette, uso questa metafora, diventaste i Google della distribuzione di materiale. Google nel senso che integra informazioni, che fa da gateway. Voi potenzialmente avete un ruolo che è il ruolo di gateway rispetto ai bisogni complessi che emergono. Attenzione, parlare di bisogno di efficienza energetica significa che implicazioni ha. Perché adesso cominciamo ad arrivare poi agli altri temi che avete evidenziato. Se parliamo in questo senso, allora per diventare gateway, per diventare integratore di proposte, per rispondere attraverso soluzioni a bisogni complessi, cosa devo fare? Quali sono? Quale è la prima cosa, le prime cose che vi vengono in mente? Primo luogo, grande come una casa, conoscere i bisogni. Poi ce lo ricordiamo. Non abbiamo una lavagna, comunque segniamo, ce lo ricordo tu. Conoscere i bisogni e lo riprendiamo. Poi? Possiamo ottenere una lavagna, Virginia, così miglioramento. Cosa vuol dire creare i bisogni? Ok. Anche su questo, bisogni in senso diciamo reattivo-proattivo. Ok, perfetto. e la dimensione bisogni ce l'abbiamo. Poi? Prego? Evoluzione in che direzione secondo lei? Evoluzione, quindi il tema del cambiamento. C'è qualcuno che ha qualche idea sul cambiamento? Formazione. Chi l'ha detto? Eh, sono sordo purtroppo, di fatto se stiamo alla prossima ho pronotato la visita dal medico perché... Formazione. E questo ce lo segniamo, anche tu dici di sì, ma poi te lo chiedo. Sì, sì, ok, va bene. Organizzazione. Perfetto. Direi elasticità mentale. Apertura mentale. Apertura mentale. Va bene. Allora, ci sono, siccome il tempo lo dobbiamo disciplinare, mi farei, dobbiamo, mi fermo qui perché sennò devo finire a 10.40, quindi. Allora, partiamo da questa ultima affermazione, elasticità. Perché parlo di elasticità? Perché prendo l'elasticità che lei ha evidenziato. Perché se è vero, e voi non avete obiettato, quindi immagino che siate d'accordo, comunque se non siete d'accordo rifletteteci naturalmente, se è vero che il mercato evolve nella direzione che abbiamo delineato, è inevitabile fare una riflessione. Ma non è che i confini dell'industry in cui io opero o ho sempre operato sono un po' stretti? E la risposta è sì. L'apertura mentale, una parte dell'apertura mentale, passa attraverso un'attenta riflessione sul portafoglio di offerta a vostra disposizione. Il senso è, ma rimanere nell'ambito esagero, edile in senso stretto, è corretto? In termini medi potrebbe non esserlo. Perché i bisogni sono quelli che vi ho detto, che ho adesso semplificato. Quindi io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia una contaminazione del mondo dell'edilizia con il mondo dell'elettrotecnica e con il mondo dell'idrotermosanitario. E ce lo chiede il mercato, signori. Non è che... Capisco che questa cosa qui... Lo chiede il mercato. Sarà il mercato che porta lì. E se non andremo noi, nasceranno integratori nuovi. Non è che... Vedete tutto quanto è veloce. Velocissimamente nascono player che si riconfigurano, vanno da zero a un miliardo di euro in un amen. Ok? Quindi, a mio modo di vedere, il principale elemento di apertura mentale che deve essere considerato è, in chiave prospettica, il portafoglio della mia offerta, quale sarà? Voi potrete decidere, rimango in un portafoglio stretto, secondo me in media è rischioso, oppure allargo. E certamente devo fare un allargamento che sia sostenibile, non fare il passo più lungo della gamba, però questo è quello che il mercato ci chiederà. Pensiamo a una cosa. Il mercato, dal punto di vista della domanda più importante nel futuro, non sarà la costruzione di nuove case. Caliamo di mezzo milione di abitanti all'anno, quindi se caliamo di... Diciamo che noi abbiamo... Nei prossimi vent'anni perdiamo 10 milioni di persone, 30 anni perdiamo 10 milioni di persone. Non sfugge che quindi il mercato futuro non è il mercato delle nuove residenze, ma è il mercato della ristrutturazione. Allora, il mercato delle ristrutturazioni, chi ha in mano la ristrutturazione tenderà a semplificarsi la vita nel casino della ristrutturazione avendo risposte chiave in mano. Qui non gliene frega niente. Chi arriva e non gliene frega... No, deve comprare i forati di un certo tipo qui, deve andare a prendere quello lì, lì, quello là, là e poi a coordinare. Io, per dirvi, ho l'idraulico che non è in grado di coordinarsi con un altro te che deve fargli il coordinamento. Questo mondo qui non è fattibile. Quindi, da questo punto di vista, l'amministratore di condominio, se troverà qualcuno che integra, gli affida la cosa. Se saremo noi, l'affiderà a noi. Se non saremo noi, saranno nuove figure che nascono e quant'altro. Ok? Quindi, secondo me, il primo tema di ampliamento, la vostra riflessione su se valga la pena modificare il perimetro della vostra attività, è una riflessione importante. Il secondo tema che voi avete evidenziato è un tema di natura organizzativa. Da un punto di vista organizzativo, e qui sono molte le cose che possono essere dette. In primo luogo, l'organizzazione deve specularmente ribaltarsi. Se noi abbiamo un'organizzazione che organizza le persone per competenze tecniche, tendenzialmente dovremo andare verso un'organizzazione che organizza le persone per tipologia di bisogno e dietro mettere le competenze tecniche. Perché? Perché noi dobbiamo essere in grado di rispondere ai bisogni. Cioè, si tratta, in termini tecnico viene detto, un'organizzazione che mette il cliente al centro. Adesso, al di là del termine tecnico, riflettete su questo. Guardate che e la logica conseguenza è che cambia la struttura commerciale. Cambia la vostra struttura commerciale. I vostri commerciali, naturalmente sto ragionando in termini medi, saranno sempre meno commerciali di prodotto e saranno sempre più, come dire, soggetti che rispondono a bisogni integrati. Quindi, la risposta è, i commerciali di oggi vanno bene? Punto di domanda. La risposta che vi do, non so da voi, quasi mai. Da voi non lo so. Io parlo dei settori in cui lavoro. Perché quasi mai? Perché i commerciali che incontro sono dei prenditori di ordini. Sono dei riempitori di bolle, tari, digitali adesso, per carità, adesso è digitale. Ma non è cambiato nulla. Loro riempiono fogli di carta o fogli digitali. Non è quello che il mercato cerca. Quindi, tornando al tema organizzazione e formazione, voi avete un tema organizzativo di riarticolare la vostra setto rispetto a bisogni. E in secondo luogo avete un tema di competenze delle persone, quindi il tema della formazione. Oserei dire che il tema delle competenze della formazione è la più grande vostra priorità. È la più grande vostra priorità. conoscere i bisogni, si diceva, è in modo sia reattivo che proattivo. Questo significa che accanto all'unità commerciale c'è un'unità di marketing che lavora, che crea consapevolezza, che crea cultura, che organizza cose per i progettisti, per gli installatori, per le imprese edili, quelle che resisteranno. Non che non ci saranno maestranze edili, ma ci saranno meno imprese edili, perché le maestranze edili probabilmente andranno dentro imprese più allargate, della serie, così come ci poniamo questo tema a noi, lo stesso Maguit di Bergamo deve porsi il tema, ma io a metter su muri sono ancora quello che cerca il mercato, la risposta sarà in seconda battuta, quindi verrai intermediato da qualcuno e quindi farai l'operaio di qualcun altro. L'essenza è questa, non è che ci siano molti da giocci intorno. Quindi il marketing gioca un ruolo importante, ma allora io credo che in tutti voi emerga un quesito grande come una casa. Ma tutto questo, questo cambiamento che l'avete detto voi che siete disponibili al cambiamento, quindi Roberto io non sto facendo altro che andare in sintonia col vostro desiderio di cambiare, cercando però di orientare il cambiamento nella dimensione giusta, ma che credo sia già nelle vostre corde. Il tema che io credo voi vi poniate è a fronte di delle sollecitazioni che stanno arrivando. Come possiamo raccogliere e rendere tutto sostenibile e concreto? No, perché queste sollecitazioni devono trasformarsi in qualcosa di concreto. Allora, a mio modo di vedere la prima, come dire, la prima decisione che voi dovrete prendere è una decisione se non valga la pena essere più focalizzati, cioè specializzarsi per tipologia di bisogno. Cioè un mercato che diventa più sofisticato, è un mercato che non dà spazio a soluzioni generaliste. O meglio, le soluzioni generaliste ci saranno, ma saranno solo quelle che puntano sul costo. Quindi un mercato che evolve in questa direzione è un mercato che secondo me chiede a voi distributori di dire ma può aver senso specializzarmi, dovete decidere voi su come specializzarvi e qui entra in gioco il tema della dimensione territoriale. Non siamo agnostici territorialmente da questo punto di vista. Territori diversi possono esprimere fabbisogni diversi. Prendo una classica dicotomia, che ne so, territorio iper, parte della Toscana Senese per dire rispetto alla Valcamonica Bresciana. È evidente che in Valcamonica può valere una specializzazione più orientata al mondo industriale, nel territorio toscano-senese può valere una specializzazione di un altro tipo, per esempio i banani. Però se ci avviciniamo al cliente, pur avendo principi di fondo che sono gli stessi, dobbiamo anche ammettere che ci possano essere logiche di specializzazione territoriale, dove la specializzazione territoriale significa utilizzare la presenza fisica sul territorio come elemento di vicinanza al cliente, ma la vicinanza non è la prossimità geografica, la vicinanza è la capacità di rispondere al bisogno. Perché non è attraverso la capillarità territoriale che siamo vicini al cliente, noi siamo vicini al cliente, la nostra capacità di rispondere al bisogno. E quindi in questo senso, Roberto, a mio modo di vedere, una prima domanda è può valere la pena specializzarsi? Attenzione, non dico adesso, questo è un tema che tra 5-10 anni sarà conclamato, quindi dovrete disciplinare, però nel contempo non lo potete rimandare, perché siccome richiede di ribaltare l'organizzazione o partite adesso o quando è necessario siete finiti, quindi dovete pensarci adesso, perché richiede anni. Il secondo tema è un tema dimensionale, ha ancora senso perseguire una logica di marcato individualismo? Ecco, dal mio punto di vista sempre meno, come posso superare l'individualismo? Lo posso superare o attraverso processi di M&A, quindi acquisizione, quindi acquisizioni, oppure attraverso fenomeni consortili che non sono fenomeni consortili mirati ad acquistare i prodotti, ma sono fenomeni consortili orientati a fare quello che ho detto, cioè a creare quella massa critica sufficiente per aiutare alla specializzazione dei bisogni, quindi è come se si dicesse il consorzio anziché essere un ufficio acquisti, lo sarà l'ufficio acquisti, oltre a essere ufficio acquisti mette a sistema tutto il tema del patrimonio delle competenze per l'efficientamento energetico, per lo smart building, per la smart city, ok? Quindi io faccio economie di scala al centro, non solo sugli acquisti, ma faccio economie di scala sulla costruzione di quelle competenze, che possono essere competenze tecniche e o competenze di marketing e che poi vengono trasferite agli associati. Quindi due alternative io vedo sempre in media, o processi di concentrazione che peraltro so da Virginia sono già in atto ed è inevitabile che siano in atto, attenzione però alla concentrazione non finalizzata al volume, perché quella concentrazione lì è malsana. Se io penso di acquisire nuovi distributori semplicemente per prendere volume, aumento i costi fissi e quando girerà il mercato io mi capovoldo, mi capotto. Io devo concepire processi di concentrazione per avere quella massa critica che mi permette di investire per ribaltare l'organizzazione in chiave autonoma, non certamente mantenendo l'assetto dato. Quindi o MNI o consorzi, non i consorzi, adesso non lo so nel vostro ambito, ho in mente tanti altri ambiti dove i consorzi e pieno nel mondo di consorzi e cooperative sono tutte finalizzate a minimizzare i costi d'acquisto, quando tutto sommato non è la variabile obiettivo, non può essere, se quella è la variabile obiettivo andiamo a schiantarci. Quindi il tema del riflettere su come articolare la catena del valore per rendere sostenibile questo cambiamento è a mio modesto avviso un altro tema che voi vi dovrete porre e è chiaro che se si tratta di MNI ci sono già, li ho visti nelle interazioni anche ieri sera, avete premiato e mi diceva Federico della Puppa che se già andiamo a vedere i primi 100 per fatturato è evidente che la concentrazione sta avvenendo, quindi noi avremo o fenomeni di concentrazione di quel tipo in cui ci sono dei grandi che diventano più grandi ma che devono cambiare, cioè non è che diventano più grandi in volume, diventano grandi per cambiare e questo è un elemento importante, oppure ci possono essere giovani usciti dal Politecnico, giovani usciti dalla Cattolica, da qualsiasi, dalla Liuk, che si inventano questo tipo di cosa e diventano loro i Google, i Google di questo tipo di, della filiera edile. Dico giovani, ma naturalmente potrebbero essere i consorzi attuali che evolvono, più probabile che siano delle persone, delle organizzazioni che nascono da zero e che intravedendo l'opportunità e questo è un altro fenomeno che io sto osservando, cioè in molti settori industriali osservo che la competizione improvvisamente cambia perché c'è l'entrata di qualche attore che entra totalmente nuovo e concepisce tutte le attività in una logica cliente centrica, quando evidentemente per ragioni storiche le filiere esistenti sono tutte strutturate per prodotto e l'entrata di questi soggetti ribalta la competizione perché improvvisamente si trovano in sintonia perfetta rispetto al cliente e il cliente dice e questi soggetti che integrano questi bisogni intermediano. Forse ve l'ho già fatto questo esempio, ve l'ho già fatto sicuramente ma lo ripeto perché è un esempio che si capisce bene, azienda che produce da 60 anni valvole e che a fronte di un quadro competitivo che è sempre rimasto quello si è trovata spiazzata per l'entrata di una start up che produce software per la gestione della distribuzione del gas negli impianti. questo soggetto va da Snam e dice ma che ti stai a preoccupare di comprare valvole, ci posso io gestirti, a te cosa interessa? Che arrivi il gas a nocere inferiore a quella quantità, a quella pressione, ci penso io e evidentemente a quel punto intermedio tutti quelli che stanno dietro. Quindi arriva uno che produce software, uno che produce software e che ribalta completamente la competizione, di gente che produce ferro, non gente di voi, di noi, semplicemente perché si pone in una logica ribaltata. A Snam non serve la valvola, Snam prende la valvola per far arrivare il gas, quindi se c'è qualcuno che gli dice il gas ci penso io, Snam glielo ribalta addosso, capite? È la stessa cosa di l'amministratore di condominio se c'è qualcuno che arriva che gli dice. Ultima cosa, perché ancora 3 minuti e 30 secondi, è il tema degli spazi. Allora il tema degli spazi è un tema particolarmente importante secondo me. Allora innanzitutto che cose intendiamo per spazio? Per spazio io non intendo il punto vendita. Per spazio io intendo uno spazio integrato di interazione col mercato, cioè l'integrazione di punto fisico con properties digitali. Primo elemento. nessun cliente, nessuno, dalla famiglia all'impresa edile di oggi, ormai non utilizza solo il canale fisico. Io oggi pomeriggio, mi scuso devo scappare perché è un evento che organizzo da 15 anni al Politecnico, dirò che la società italiana è ormai strutturalmente e irreversibilmente è stata fatta così. Il 90% degli italiani lavora integrando, come vi ho detto io, digitale e fisico, il 10% sono gli anziani di 80 anni. 90-10, avete capito? 90-10! Sono dati certificati, non le palle che si raccontano in giro. Quindi, spazio? Allora devo dire che se lo spazio è concepito così, cari amici di investimenti nello spazio ne dovete fare tantissimi. Penso a tutto il tema dello spazio digitale. Penso al tema di come aiutate a orientare meglio le decisioni, che servizi date, una serie di cose. Quindi, secondo me, primo elemento, lo spazio in realtà, se è spazio multicanale, deve essere oggetto di vostre attenzioni. Punto uno. Secondo elemento, anche lo spazio fisico deve essere oggetto di vostre attenzioni. In che senso? Che lo spazio fisico, la esagero e mi scuserete per questa esagerazione, a mio modo di vedere, è sempre meno spazio, come dire, in cui, spazio magazzino e deve diventare sempre più spazio consulenza, spazio interazione. Che cosa intendo dire per spazio consulenza, spazio interazione? Intendo dire non l'esposizione di prodotti, ma intendo dire quello che Apple fa nel suo store. Quindi, capire come utilizzare meglio un prodotto. Far vedere l'integrazione di differenti componenti, come lavora. Introdurre le tecnologie digitali in questo. A breve vedrete che io sarò nominato su una roba importante, sul metaverso. Metaverso di cui tutti ne parlano, nessuno ha capito un cazzo, anch'io per il momento. Però vi dico una cosa, voi avete presente il rendering? Quello avete presente. Ecco, vedete, il settore immobiliare sarà il primo in cui il metaverso entrerà. Come? Attraverso la possibilità di vivere esperienze immersive e tridimensionali. Quindi, la chiave della presentazione di tecnologie immersive, il metaverso non mi interessa poco, diventerà una chiave fondamentale per aiutare i vostri interlocutori a capire meglio. La dico in altro modo. Con la pandemia il metaverso è entrato nelle aziende meccaniche. Come è entrato? Utilizzando le tecnologie digitali per far installare al cinese di turno o al taiwanese di turno l'impianto italiano dove i nostri tecnici non potevano andare là ad installare. Quindi un'esperienza immersiva che per me... e adesso cazzo dicono, ma se è così non vado più là! Ok? Ecco, questa cosa nei vostri punti fisici arriverà. Arriverà. E perché arriverà? Perché diventerà una modalità attraverso la quale semplificherete i processi di apprendimento delle persone. Così come i progettisti con rendering fanno vedere la casa. E siccome la casa è una rappresentazione tridimensionale in uno strumento bidimensionale, già quello migliora. Le concessionarie saranno le auto, saranno le primissime in cui nell'arco di uno o due anni questo sarà. Quindi arriveremo lì, avremo i nostri simulatori e con i simulatori sperimenteremo cosa cambia nella guida passando da sospensioni elettriche, sospensioni in un certo modo, sospensioni in un altro modo e quant'altro. Ok? Bene. Allora, sono le 10.41, quindi avrei tante altre cose da dire, ma magari ci diamo un altro appuntamento, Roberto. Io credo però che, chiudendo, il quadro è complesso. Le opportunità sono enormi. Perché sono enormi? Perché nel momento in cui si mescola, si mescola il brodo, se metto insieme i sapori può nascere una ricetta straordinaria. E io credo che noi siamo davvero in questo momento. Se, come avete detto, siete disponibili al cambiamento e come avete dichiarato avete capito che il cambiamento non è sulla dimensione del costo ma è sulla dimensione del servizio, io spero di aver ridato qualche elemento utile la vostra riflessione. Grazie e buon lavoro.